Ciao, sono Giada Bruzzese dell'Artusi, sono qui con Dionisi, Sclama e Lani. Come avete visto questa partita? Datemi un parere. Allora, è stata una partita molto combattuta, nel primo tempo abbiamo attaccato più noi, abbiamo avuto molte occasioni, siamo andati in rete, e nel secondo tempo invece abbiamo un po' più sofferto, abbiamo subito il gol, però abbiamo vinto a rigori e è stata una bella partita combattuta, complimenti all'avversario. Nel primo tempo, come ha detto lui, abbiamo giocato meglio noi, poi nel secondo tempo ci hanno un po' schiacciato, però alla fine se siamo meritati questa vittoria siamo stati fortunati a garci di rigore e ora se giocammo la semifinale. Non penso ci sia altro da aggiungere, alla fine sono stati fortunati a fare gol, perché sul piano di gioco l'abbiamo proprio schiacciato in tutti i sensi, e basta, adesso andiamoci a giocare al suo torneo, forza Artusi. Vogliamo il Flaminio, forza Artusi. La madre dionese. Palo, Santoro.